Ben trovati ad un sindaco per 46 comuni al voto il 26 di maggio amministrative 2019 non c'è solo il capoluogo ci sono tanti comuni e comunità che si recheranno alle urne e tenteranno di scrivere nuove pagine per il futuro di queste terre. I confronti a Prima TV e a Telenostra proseguono un comune di 2500 abitanti situato nella Valle del Sabato dove non mancano le energie e il fermento ma con quali prospettive lo chiediamo ai candidati alla carica di sindaco che sono nei nostri studi e che hanno raccolto il nostro invito al confronto e per questo li ringraziamo. Cesinali ben trovato a Dario Fiore candidato sindaco della lista allo stem pro Cesinali grazie per essere qui con noi ben trovato a Giovanni Fruglio Giovanni Valle del Sabato candidato sindaco per Cesinali. Intanto per i telespettatori che seguono i confronti e che vogliono sentire parlare di Irpinia facciamo intanto capire chi sono i candidati e chiediamo loro in 30 secondi, un minuto al massimo di dirci intanto chi è Giovanni Fruglio e perché si candida a sindaco di Cesinali e poi Dario Fiore. Salve a tutti, grazie Enzo per la disponibilità e saluto i telespettatori. Fruglio Giovanni, sono un consulente aziendale, faccio questo mestiere dal 2013, dall'età di 22 anni, ora ho 28 anni e sono anche uno studente all'UNISA nella facoltà di economia. Grazie anche per la sintesi, andiamo subito da Dario Fiore, chi è Dario Fiore che si candida a sindaco di Cesinali. Grazie, buongiorno prima di tutto per averci invitato, quindi è un'occasione per parlare anche del programma penso poi successivamente. Sono Fiore Dario, sono un imprenditore edile, sono da circa 15 anni, sono nell'amministrazione del comune di Cesinali e sono padre di due figli, quindi sono prestato alla politica, non faccio quello per mestiere. Che cosa vi spinge a candidarvi alla carica di sindaco? I problemi non mancano, i soldi non ci sono, le difficoltà sono tante, la domanda è chi ve lo fa fare? Il percorso è stato un percorso che si è evoluto nel tempo, io mi sono candidato quando ero un ragazzo, ero giovane, come loro, avevo 23 anni, mi sono candidato. La prima volta con l'allora sindaco siciliano Aurelio ho avuto il merito, se possiamo dire, di rappresentare una frazione di Cesinali. Quindi poi è nata la passione. Quale? La frazione Villa San Nicola. Poi è nata la passione, nasce la passione perché poi ti metti a servizio delle persone, quindi dai il massimo perché una frazioncina riesca ad avere i minimi servizi. Successivamente poi ho fatto tre mandati con Ciro Tango, l'attuale sindaco, e abbiamo fatto molto, devo dire che abbiamo fatto molto, abbiamo rispettato appieno quello che ci prefriggevamo. Deve considerare che noi la prima volta che ci siamo candidati avevamo un sogno, il cosiddetto sogno nel cassetto. Abbiamo realizzato delle strutture che sono oggi visibili dopo 15 anni, le abbiamo realizzate e stiamo raccogliendo i frutti. Il centro di aggregazione, il campo sportivo e così via. Quindi un esempio, giusto, un esempio che la politica se si impegna può fare. Cosa spinge Giovanni Fruglio a candidarsi? Come nasce questa candidatura? Sì, siamo alla nostra prima esperienza politica, parlo per la totalità della lista che rappresenta. La prima esperienza politica per le amministrative, quindi siamo di fronte ad una bilancia, come detto, i soldi non ci sono, i problemi sono tanti. Noi nell'altro piatto della bilancia mettiamo sicuramente la volontà, la voglia di fare bene. È una serie di proposte che sicuramente sono allettanti dal punto di vista sociale. ambientale e anche dal punto di vista amministrativo. Noi abbiamo delle proposte, non abbiamo uno storico con il quale confrontarci, non abbiamo uno storico dal quale appunto partire. Ma ce la metteremo tutta, siamo determinati su questo e contiamo sulle nostre competenze acquisite e su quello che possiamo apprendere anche da chi avrà voglia di supportarci non solo con il voto ma anche con un proprio contributo fattivo. Quali sono le priorità del programma dei giovani della Valle del Sabato per Cesinali? Politiche sociali, giovanili, quindi per i giovani, per tutta quella parte di popolazione che in questo momento potrebbe non sentirsi rappresentata dall'attuale scenario politico. Questo unitariamente all'obiettivo ambientale, un obiettivo che sentiamo di condividere con una comunità che è sicuramente più larga rispetto a quella di Cesinali. E' il cardine del nostro progetto appunto, è il progetto riferito alla Valle del Sabato, quindi unificazione e integrazione di tutti i servizi tra i vari comuni della Valle del Sabato e in particolare quindi un sostegno anche a quello che è il progetto di unificazione dei due comuni, di Aiello del Sabato e di Cesinali. Chiedo a Dario Fiore, intanto è possibile un comune unico, Aiello-Cesinali e poi le priorità del programma? E' una cosa che si può programmare sicuramente, noi abbiamo tentato una volta di fare l'unione dei comuni, quindi ci siamo più che con Aiello, anche con Santa Lucia, Santo Stefano. Però è difficile mettere da parte le divergenze, le tradizioni, sono tradizioni diverse, pensieri diversi. Io la voglio buttare lì, fino a qualche poco tempo fa c'era anche difficoltà a vedere oggi, essere candidato capolista, un sindaco della frazione, una presa della frazione. Sinceramente è un progetto che io condivido in loro, ma che certamente avranno molti ostacoli sulla strada per applicarlo. Troppo forti i campanili. Esatto. La priorità del programma? La priorità del programma, noi abbiamo fatto un programma che si divide in dieci punti, la premessa però che è più importante del programma è quella appunto di ricucire un po' i rapporti tra le persone. Purtroppo ogni competizione elettorale, come lei ben sa, crea degli strasci, degli strasci di incomprensione tra, non solo tra i candidati, ma anche tra le persone, tra i concittadini. Quindi il primo impegno che io prenderò, se sarò il sindaco di Cesinali, sarà quello di ricucire i rapporti che sono stati interrotti tra la cittadinanza. Quindi proprio avere le persone, cioè avere le famiglie con delle divergenze tali da non avere più il saluto. Come si supera questa fase? Poi lo chiedo anche a Giovanni Fruglio. Diventare, no, sembra una frase fatta, diventare il sindaco di tutti. Io tenderò la mano a tutti, al di fuori di coloro che mi voteranno o coloro che non mi voteranno. Quindi sarò a disposizione di tutti e farò il possibile perché si riparta da una comunità, dall'aggregazione. E per i giovani, appunto, abbiamo studiato sulle politiche sociali, cercheremo di fare molta aggregazione, anche se ci sarà, penso, collaborazione successivamente da parte loro. Saremo pronti ad avere qualsiasi tipo di collaborazione da parte loro. Parola a Giovanni Fruglio su questo. Il punto centrale del nostro programma, ripeto, è il progetto di unificazione dei comuni di Adiolo del Sabato e di Cesinali, ma più sostanzialmente dell'integrazione dei servizi che si possono avere tra i comuni, in un concetto di comune diffuso in tutta la Valle del Sabato. Questo perché? Perché le politiche sociali e le politiche giovanili in realtà sono al centro di questo progetto, tanto quanto lo è il nostro interesse verso l'ambiente e la tutela ambientale. Questi, infatti, sono i tre punti con i quali abbiamo diviso il nostro programma elettorale. In questo modo noi cosa ci prefiggiamo di fare? Abbiamo un obiettivo, quello di creare una base culturale sulla quale costruire un nuovo senso di comunità che non appartenga solamente a Cesinali, che sia di Cesinali, che si senta di Cesinali, quindi che le persone Cesinali si possano sentire proprio, ma con un concetto nuovo. Quindi provare a dare un modello diverso di società che passi attraverso la tutela ambientale, come ho detto, ma anche politiche e giornalini più forti e condivise con altre realtà comunali. Come si superano le divisioni e le frizioni che si vivono nei paesi, non solo a Cesinali, in queste settimane? Culturalmente con il dialogo. Il dialogo è la prima cosa, la condivisione di quelle che sono le proprie idee, perché le frizioni si generano sempre per una mancanza di confronto, non si capisce abbastanza quello che l'altro vuole esprimere, o comunque non lo si vuole capire per tanti fattori, che siano esogeni o fattori anche provenienti dal proprio essere, dal proprio carattere. Per cui noi puntiamo su questo, un'unificazione che sia culturale e questo serva chiaramente ad avvicinare e quindi ad evitare tutte quelle frizioni di cui dicevano. Voglio dai due candidati alla carica di sindaco, uno impegnato nella precedente amministrazione, l'altro no, un giudizio sulla precedente amministrazione. Partiamo da Fruglio. Un giudizio sulla precedente amministrazione. Cesinale non è il peggiore dei comuni della Valle del Stab, non è il peggiore dei comuni della regione Campania, della provincia. Sicuramente ci sono tanti aspetti che però andrebbero approfonditi, che chiaramente sono emersi nell'arco dei cinque anni, che abbiamo avuto comunque modo di constatare con la presenza nostra sul territorio, seppur non marcata come altre entità. Ma possiamo dire che comunque noi cercheremo di far luce, di fare chiarezza per tutte quelle ombre che possono esserci sulla passata amministrazione. Chiaramente non avendo noi uno storico amministrativo, noi non possiamo essere nella condizione di poter dare effettivamente un giudizio. ma sicuramente ci appelliamo ai nostri principi, legalità e trasparenza. Quindi qualora si dovesse venire meno a questi principi, noi saremmo i primi ad andare contro quello che è un malcostume alla fine. Dario Fiore, il giudizio l'ha già espresso probabilmente nel bilancio dei cinque anni precedenti, ne lascio però 30 secondi per argomentare ancora. Noi lo storico ce l'abbiamo e siamo orgogliosi di averlo. La nostra lista si propone da circa 59 anni, si è saputo rinnovarsi, quindi lo stemma procesinale è una realtà che vive il paese da circa 59 anni. Ed è importante questo qua perché io quello che penso realmente, oltre a condividere alcune cose che ha detto il mio avversario, sono, oltre alla condivisione, bisogna appunto vivere quotidianamente nella cittadinanza. E queste cose qua si contattano veramente con le persone, cioè il contatto con le persone quotidiano ti fa vedere le tante problematiche che ci sono nel paese. Il voto del 26 maggio dirà, gli elettori si esprimeranno, ma Dario Fiore ha già in testa la futura giunta per Cesinali? Quello che ci è contraddistinto, oltre alla legalità e alla trasparenza, che infatti è il minimo, il minimo dare fiducia alle persone è proprio questo. Se hai fiducia dalle persone devi dare un senso di legalità e di trasparenza. La trasparenza sarà proprio data dagli elettori, nel senso che chi sarà più votato sarà in giunta, sia tra gli uomini che tra le donne. Voglio sottolineare che in questa tornata elettorale, su dieci miei candidati, sei prestano per la prima volta a fare politica, quindi ad amministrare un paese. Il criterio della rappresentanza mi sembra emergere. Per Giovanni Fruglio invece la squadra è già pronta e su quali basi verrà composta? Criterio di rappresentanza sicuramente, ma anche competenze. Quindi dovessi comporre la giunta dopo il 26, Enzo ti direi certamente che guarderei prima alle competenze, per i ruoli che chiaramente l'amministrazione richiede di ricoprire, ma poi soprattutto anche alla rappresentanza. Un candidato che, diciamo così, simpaticamente mi permetterà togliere alla lista avversaria. C'è magari un candidato che vorresti avere nella tua di lista? Sì, che vorremmo avere, oddio, non c'è conflittualità, questa è la base, quindi non essendoci una conflittualità forte potrei dire sì, potrebbe esserci qualche candidato, ma in totale trasparenza le dico proprio che queste valutazioni le prendiamo in considerazione, così come non le prenderemo in considerazione. La mia è una provocazione che faccio anche a Dario Fiore, un candidato da togliere alla lista avversaria, che magari sarebbe bene nella sua lista. Sicuramente ci sono dei candidati che potrebbero stare anche nella mia lista, proprio perché sono giovani, quindi alla fine la maturazione viene fatta con il tempo. Io credo molto che la continuazione nella parte amministrativa diventa importante. A differenza di alcuni comuni, Cesinale ha avuto una continuità amministrativa e io penso che quello che si programma nei cinque anni, se tutto va bene, lo rivedi realizzato dopo gli altri cinque anni. Quindi la continuità amministrativa diventa fondamentale, non solo per Cesinale, ma per tutte le amministrazioni. Continuità amministrativa sui programmi. Fruglio aveva poco fa espresso però delle perplessità, se non ho capito male, sulle politiche sociali. Ecco, di che cosa ha bisogno Cesinale da qui ai prossimi cinque anni? Basta dire che il forum dei giovani non esiste più a Cesinale. Io non credo che le esigenze dei giovani siano cessate, anzi, io credo che ci siano delle esigenze che vanno intercettate e che chiaramente non sono state intercettate ancora. Quando sento però dire continuità amministrativa, ricollegandomi poi al concetto che questa continuità permane da anche cinquantanove anni, beh, se si è arrivati tramite la continuità amministrativa ad aver annientato di fatto un'istituzione come il forum dei giovani, allora probabilmente non è più il momento della continuità amministrativa. Chiaramente le esigenze dei giovani vanno intercettate. Io non mi elevo a rappresentante dei giovani, ma sicuramente ne faccio parte. Sento essere parte di questa categoria e quindi con me, così come tutti gli altri componenti della lista, possiamo realmente intercettare come già facciamo, perché noi comunque siamo anche attivi nel sociale, nel campo associazionistico, e molti di noi sono attivi in tante associazioni, per cui effettivamente noi possiamo dire di sapere quali siano le esigenze che sono mutate nel tempo dei giovani. Ecco, i giovani diventano, finiscono spesso al centro delle campagne elettorali di tutti i comuni, i numeri ci dicono che in Irpinia i giovani vanno via. Ecco, nel programma della lista lo stemma c'è un accenno, c'è un'idea su come far rimanere i giovani? Certo, i giovani, giustamente come diceva pure il mio avversario, è così, il forum dei giovani, prima cosa deve partire da un gruppo di giovani che vogliono fare il forum. Fino a quando c'è stata la volontà di farlo, noi abbiamo dato, abbiamo anche contribuito, non solo economicamente, ma in tutti i modi. La prova è stata pure dando dei locali a delle associazioni di giovani, quindi che non facevano parte solo di Cesinali, ma che venivano anche da altri luoghi. Quindi la volontà dell'amministrazione a dare supporto ai giovani, ci deve essere una volontà a realizzarla qualcosa, quindi a iniziare a fare qualcosa. Due domande al volo, vi chiedo risposte flash, così da toccare più punti. Intanto i fondi, dove si trovano per realizzare le cose, viste le difficoltà nei trasferimenti statali e spesso anche di altri enti sovracomunali. I soldi per fare le cose, dove li trovate? Questo è un problema di tutte le amministrazioni, noi cerchiamo di recepire tutti i fondi, c'è una corsa continua per i fondi europei. A volte, mi dispiace dirlo, recepiamo pure fondi che al limite non cercavi in modo attento e ti arrivano quei fondi. E al limite, tipo la riqualificazione del centro storico, abbiamo cercato in tutti i modi di riqualificare il centro storico, dove appunto da lì parte la nostra comunità, il cuore della nostra comunità del centro storico, e non siamo riusciti a riqualificarlo. A differenza di altri comuni, l'Altirpinia, a volte si mira a riqualificare le zone svantaggiate con un criterio giusto, secondo me, però si dimenticano le periferie. Tipo Cesinali, che è diventata una periferia di Avellino, non ha avuto la stessa possibilità di... Il problema è l'area vasta? Esatto, l'area vasta. Ecco, se si riesce a fare questo, sicuramente avremo più possibilità di recepire fondi e quindi di riqualificare i nostri centri storici. Entrare nell'area vasta per intercettare i finanziamenti. Dove si trovano i soldi? Unisco i pezzi del puzzle. Il problema è l'area vasta. Non ci sono i soldi. Si fa difficoltà a reperire i soldi fondi dall'Europa. I soldi e questi fondi l'Europa può darli. Possono arrivare a Cesinali. Sarebbero potute arrivare in tante occasioni che non sono stati sfruttati adeguatamente. L'area vasta è un'opportunità. L'area vasta, la Valle del Sabato, è un'opportunità per fare rete e chiaramente per reperire una maggiore quantità di risorse, ma non solo dall'esterno, anche dall'interno, razionalizzando quelle che vengono già impiegate per l'amministrazione. Quindi le risorse noi le prendiamo da più fondi. Quindi su questo c'è convergenza, mi sembra di capire. Un sindaco può creare posti di lavoro? Se amministra con i criteri giusti può e deve creare posti di lavoro perché ce ne sono tutte le basi. Il sindaco di Cesinali è chiamato a creare posti di lavoro, ma in che funzione? Nella funzione sociale che è chiamato a rispondere. Quindi io quello che dico è che il concetto più ampio di Valle del Sabato crea posti di lavoro, ma non li crea aspettando che sia il sindaco dei vari campanili. Valle del Sabato, scusa se interrompo, ma per comprendere Valle del Sabato o Area Vasta? No, noi guardiamo alla Valle del Sabato, ma l'Area Vasta chiaramente anche un concetto, il concetto di vicinanza al capoluogo, anche quello deve rientrare nell'integrazione dei servizi che si possono offrire alle comunità. Area Vasta è un aggregato troppo largo? Non troppo largo, ma io lo vedo comunque come una risorsa. Assolutamente, può esserlo. Un sindaco può creare posti di lavoro? Può aiutare a creare i posti di lavoro, sicuramente. Non li crea, non li crea assolutamente. Può fare informazione e formazione, cioè può aiutare i ragazzi ad essere informati e dare una formazione per eventualmente trovare un posto di lavoro. Purtroppo non siamo proprietari di industrie, non siamo proprietari di bagnazioni, quindi abbiamo difficoltà sicuramente a crearli, però sicuramente formazione è informazione, sì. Di Palo in Frasca, c'è un luogo di Cesinale al quale è più legato o particolarmente legato? Allora, sicuramente dove risiedo è Villa San Nicola, sicuramente la mia frazione. Però quello che io sono legato, diciamo, da tempo è il centro storico. È il centro storico. Chiedo anche a Fruglio. Io ho fatto tutte le scuole elementari, materne e medie, Cesinale, e ti devo dire, Enzo, che il luogo a cui sono più legato è proprio un edificio, in realtà. È un edificio che è la scuola media, che comprende anche l'oratorio Giulio. mi ha sempre attirato questo luogo, perché da lì potevo trovare lo sfogo per i miei pomeriggi che magari passavo a giocare con qualche amico o comunque alle scuole, perché io ho un ricordo bellissimo degli anni delle scuole media. E oggi le scuole come sono messe? Eh, le scuole, l'edificio della scuola media, sappiamo che è destinato ad una nuova vita, una nuova ricostruzione, si spera presto. L'edilizia, diciamo, dal punto di vista dell'edilizia, chiaramente si può fare sempre di meglio, ma non siamo ai livelli, diciamo, proprio catastrofici. Valle del Sabato richiama il tema ambientale che Fruglio ha richiamato. C'è un problema ambientale accesinali? C'è un problema ambientale accesinali nel momento in cui c'è anche nelle comunità limitrofe. Il problema ambientale c'è. Cesinali risponde già bene, un'ottima differenziata sicuramente, ma si può fare di meglio, si deve fare di meglio e soprattutto bisogna dare sostegno a tutta la valle. I comuni che risentono delle difficoltà della Valle del Sabato in termini di inquinamento ambientale, lo sappiamo tutti, è notorio. Questo è un fatto, questo è un dato di fatto. Cesinali non può tirarsi indietro, deve fare la sua parte. I danni ricadono anche su Cesinali, direttamente ed indirettamente. Per cui dobbiamo fare qualcosa, assolutamente, a sostegno di tutta la comunità e di tutta la valle. Cosa? Chiaramente bisognerebbe sensibilizzare, sensibilizzare il singolo cittadino, ma anche sensibilizzare l'apparato produttivo. L'apparato produttivo, le industrie devono capire che qui c'è forza lavoro e c'è forza lavoro perché c'è vita. Se viene meno quella, se viene meno la vita, non c'è più la forza lavoro. E questo è Cesinali, deve essere un attore principale di questo progetto. C'è un problema ambientale legato anche alle forze produttive? Chiedo anche a Dario Fiore. Noi rispetto a qualche comune siamo un'isola felice, se possiamo chiamarla così, per il fatto della differenzialità. Differenzialità che facciamo noi, in prima persona, la gestiamo e la facciamo porta a porta da anni. Cerchiamo sicuramente, bisognerà sicuramente migliorarla su alcuni fattori. Ma noi siamo partiti quando si parlava di differenziato. Oggi è una realtà e sicuramente abbiamo un'isola ecologica portata al top, diciamo, per quanto riguarda la raccolta. Si potrebbe fare ancora di meglio. Sicuramente è legato questo a una buona differenziata cioè a dei costi alti. Può sembrare un contrasenso. Purtroppo è così. Da quando abbiamo tolto i bidoni noi abbiamo tenuto i costi bassi però. Abbiamo riuscito a tenere i costi bassi. E l'impegno sarà questo, di cercare di tenere dei costi bassi anche se purtroppo l'ultimo aumento c'è stato dovuto al conferimento. Quindi la provincia ci aumenta questi benedetti costi di conferimento. Potete fare il possibile, i comuni possono fare il possibile, ma se poi non ci sono gli impianti in Irpina diventa complicato per tutti. Questo è un discorso che non vale solo per cesinali ma vale per tutti. Siamo quasi in chiusura anche perché il tempo vola. Io però vorrei affrontare rapidamente il tema degli anziani perché abbiamo detto i giovani vanno via, la popolazione invecchia e in generale nei nostri comuni sarà sempre maggiore il numero di anziani. Anche su questo chiedo se ci sono dei programmi specifici per le persone più avanti con l'età e che in qualche modo sono risorsa per le comunità ma poi possono alimentare il sistema dei servizi sociali alimentare la domanda del sistema dei servizi sociali. Noi facciamo parte del piano di zona della 5 quindi cerchiamo quel consorzio della 5 quindi cerchiamo di recepire tutto quello che ci può dare in forma di assistenzialismo il piano di zona. D'altro canto noi organizziamo alcune gite per i pensionati facciamo delle terme per i pensionati cerchiamo di tenerli insieme cioè vanno sia i giovani che gli anziani nella maggior parte quindi avere questo contatto diretto con i giovani. Certo si potrebbe fare molto di più però voi come sapete sul bilancio la parte sociale non dico che diventa l'ultima cosa ma diventa difficoltoso recepire dei fondi all'interno. Giovanni Fruglio. Sì il confronto intergenerazionale io lo ritengo alla base di questo tema affidiamo chiaramente in qualità di amministratore metterei in campo tutte le risorse che chiaramente l'amministrazione può dare anche attraverso i fondi che arrivano in modo specifico per questo tipo di tematica ma principalmente io metterei al centro le persone quindi associazioni oratorio pro loco tutto atto a far sì che le persone siano fautori proprio della propria vita nella piena interezza chiaramente con il sostegno dell'amministrazione. Piano urbanistico altro tema che è divisivo all'interno dei comuni qual è l'idea di sviluppo urbanistico che avete? Il piano colore è un elemento che noi riteniamo essere sicuramente da prendere in considerazione per la rivalutazione del centro storico poi per quello che è l'abbandono degli immobili del centro storico vorremmo guardare a progetti concreti di diciamo di soluzioni concrete che hanno rivisto rivivere i centri storici attraverso la creazione di manifatture o comunque opere di artigianato per avvicinare anche il giovane che ha necessità di spazi per svolgere la propria attività e quindi magari riuscire a creare in questo senso il posto di lavoro come posto di artigiane per riempire i vuoti delle case abbandonate potrebbe essere una soluzione sicuramente da prendere in considerazione dal punto di vista dell'urbanistica il centro storico sicuramente come già ho anticipato prima il pieno colore può essere sicuramente un fatto attrattivo diciamo per quanto riguarda le nuove generazioni e sicuramente riportare un po' di manifattura un po' di ristorazione nei centri storici diventa fondamentale per dare vita proprio al centro storico come fare questo come rendere attrattivi i centri storici soltanto ci sta solo renderli convenibili rendere conveniente vivere nel centro storico soltanto abbassando qualche tassa si può dare un input ai ragazzi ai ragazzi a farli ritornare nel centro storico servono i soldi servono i soldi da lì non se ne esce poi abbiamo noi da poco abbiamo adottato in giunta il PUC quindi abbiamo rivisto urbanisticamente tutto il territorio l'abbiamo rivisto e abbiamo cercato di limitare al massimo la costruzione anche perché ce lo imponeva il PTCP di Avellino i piani territoriali di Avellino cercando di non sottraere più terreno all'edificazione quindi io sono imprenditore edile quindi parlo in un certo senso contro i miei interessi però ci siamo riusciti e abbiamo dato forte impulso alle zone turistico alberghiere cercando di far creare altre zone turistiche proprio in virtù in virtù di questo solo i comuni non si possono reggere con le tasse solo del pensionato o dell'operario si deve reggere soprattutto con le tasse dell'imprenditura altrimenti i comuni tenderanno a finire poi il discorso si allarga ma ci vuole un'altra puntata circa il PUC che Dario ha citato mi riservo in qualità di rappresentante della lista e della lista in generale ci riserviamo di approfondire la questione del PUC per le polemiche che sono state sollevate circa i benefici che qualcuno avrebbe potuto trarre da questo nuovo PUC quindi sicuramente l'azione del Comune è certa è stata acclamata noi però ci riserviamo di approfondire questa tematica sia in Consiglio che poi chiaramente anche per Stai parlando di speculazioni Frulio? Parlo di speculazioni nel momento in cui chiaramente si darà atto a questo ma non Speculazioni? No, allora vi posso assicurare e confermerò in qualsiasi tavolo che il PUC è stato fatto a misura del nostro Comune non ci sono grossi terreni anzi noi abbiamo sottratto grandi terreni proprio per rendere possibile l'approvazione quindi siamo tranquilli da quel punto di vista Siamo in chiusura vi lascio 30 secondi a testa per rivolgervi direttamente ai cesinalesi perché votare Giovanni Frulio perché votare Giovanni Valle del Sabato? Votate Giovanni Valle del Sabato perché Giovanni per la Valle del Sabato perché i giovani possono dare qualcosa in più possono dare quello che manca a tutta la struttura amministrativa che magari può avere e ha delle lacune che ha avuto delle lacune in queste ultime tornate amministrative per cui chiaramente il voto ai giovani per la Valle del Sabato è un voto alla fiducia alla bravura e alla competenza che comunque contiamo di poter dimostrare in consiglio grazie in bocca al lupo Dario Fiore perché votare lo stemma approccio sinali perché votare Dario Fiore sindaco allora in chiusura del programma io ho messo una frase insieme ai miei candidati votate noi perché noi facciamo una politica del fare concreta noi siamo concreti alla fine la concretezza ci ha distinto c'è uno storico dei 59 anni però in 15 anni abbiamo realizzato molto e molto potremmo fare di più ci sono in programma altri interventi che sicuramente nell'arco dei 5 anni se ci sarà confermato faremo e quindi ultimeremo grazie in bocca al lupo per questa campagna elettorale grazie a quanti lavorano dietro alle telecamere ma i confronti non sono finiti una brevissima pausa restate con noi e poi sarà la volta del comune di Contrada